ah fabbri che una cosa che il mio amico che sta venendo a pranzo lui cosa c'è un problema che problema clà come faccio a spiegarti oddio che ansia però così ma al do fabrizio fabrizio ma ciao al do che bel nome piacere fabrizio ma qua io entro sì ma scusa c'ha la sindrome di down che c'ha la sindrome di down ragazzo speciale no non è quello è che lui vabbè mo lo vedi come lo vedi cosa non metta nessuno le spine però ma perché questo me lo c'ha senti aldo giusto che fai nella vita di che ti occupi il giardiniere il giardiniere che lavoro floreale ma come cazzo parli senti ma tu lo sai che io e mio marito ci abbiamo una terrazza grande 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 che schifo ecco fatto il pane ti fa schifo se vuoi chiediamo di portarlo un po più fresco dai che ci vuole no che schifo tu che sei con un uomo ecco perché mi toccava prima aldo ma che dici dai fabrizio scusalo eh ti avevo avvisato che c'era un problema ma no ma quale problema clà ma stai scherzando no io capisco benissimo che noi gli ai possiamo risultare un pochettino ostici qualche volta il dolcissimo aldo ha ragione ma che stai dicendo è un omofobo di merda dai ma ti stai sentendo ma tu la sensibilità dove l'hai messa scusami anzi io se avessi potuto scegliere avrei preferito nascere etero ecco l'ho detto e però nelle cose vostre fatele a casa vostra qualche vostre cosa a casa vostra ma ti senti quando parli i signori sono pronti per ordinare si allora io sto vedendo i secondi ma eventualmente si può fare questa scamorza però ma questo non ti dice niente ma vogliamo far vedere questo ben nato b così e pensano che in verdea sta nelle spune qua aldo ma che te sei impazzito ma veramente io mi vergogno quando esco con te mi fai vergognare che stai dicendo aldo senti non stare a sentire questa merda d'uomo perché è veramente una merda d'uomo questo qua aldo tu sei un valore aggiunto a questa tavolata lei si dovrebbe vergognare ah io mi devo vergognare questo fa veder culo a tutta la gentella ma io mi devo vergognare lei è un maiale schifoso faccio il barnacco nuovo e non mi sono tutte seri perciò a me non mi piacciono io bevo questa manatina no no aldo non chiamarla così però sono mandato dei freni al do basta basta ma che è sta volgarità ma è possibile ogni volta che andiamo in giro fa stai figura del merda ma veramente c'è ma tu non sei normale si vergogni scusate avevate problemi con la mia collega ma chi è sto nego permesso scusi ne vedi ma io sono incinta 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 ma io sono incinta